amici buonasera e benvenuti al nostro 42esimo appuntamento musicale con le colonne sonore dei film più famosi e niente finisce qui il mio digiuno musicale riprendo questa sera con un brano abbastanza famoso diciamo del 1974 a me piace tantissimo una melodia fantastica meravigliosa il brano si chiama gamma del maestro enrico simonetti il papà di claudio oramai del maestro claudio simonetti l'avete ascoltate un po tutte le canzoni le colonne sonore questa sera vi farò ascoltare il brano di suo padre un brano che ho ricreato più fedelmente possibile campionando il sassofono che altro non vi però non vi parlerò del della scelta del film che c'è poco da parlare ma bensì di un aneddoto che suo figlio racconta sempre nei suoi concerti insieme al suo gruppo i goblin e 1974 nella classifica italiana furono tantissime settimane i primi in classifica finché il maestro il padre enrico simonetti appunto scalò la classifica arrivando primo spero che questo brano vi piaccia tantissimo e niente buon ascolto e buonasera da tutti ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.